Nei prossimi giorni tornerà in funzione l'eco compattatore che si trova alla casa dell'acqua nel parco di Villa Lovari. Siamo a Castiglion Fiorentino dove l'assessore all'ambiente Francesca Sebastiani rivela che il recente stop si era reso necessario a seguito dell'atto vandalico commesso da ignoti e denunciato alle autorità. Nottetempo sono state sradicate le piante ornamentali vicino alla struttura e sono state inserite nella macchina bloccandola e danneggiandola. L'amministrazione comunale ha sporto denuncia e al momento sono in atto le ricerche per individuare gli autori. Dal comune l'appella a confessare. Auspico che gli autori di questo atto si facciano vivi prima di essere individuati attraverso le indagini delle forze dell'ordine. Ha detto l'assessore all'ambiente Francesca Sebastiani l'eco compattatore serve per rendere il nostro territorio più vivibile. Oltre al danno materiale che poi di fatto ricade sempre comunque sulla comunità per un periodo di tempo non è stato possibile usufruire di questo strumento amico dell'ambiente.